Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto tappeti tappeto Amadan 227x144. Questi tappeti vengono annodati in 500-600 villaggi su un'ampia area, che si estende attorno alla città di Amadan nella Persia nord-occidentale. Ciascun villaggio o gruppo di villaggi dà un tocco ben personalizzato ai tappeti prodotti. Questi tappeti sono solitamente molto colorati e realizzati con lana di buona qualità. In generale, hanno un buon rapporto qualità-prezzo e sono ottimi tappeti di uso corrente. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.